di una storia interessante di un italiano, ecco, prego, Stefani, che pensa? Ma questo, lui va a giro con la Lexus, la moglie va a giro con la Lexus, ha beccato 12 milioni, si può anche permettere di quel che gli pare. Cioè, parliamoci chiaro, io non sono un esegeta della Corea, però, come da documenti che le ho mandato, in Corea se ti beccano a fare delle cose strane, ti danno due anni di galera, 50 mila dollari in molta, eccetera, 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 e non la vuoi più. E quello è la Corea, l'Italia. Questo, no, ecco, questo è il senso della faccenda, non queste cose, in Cina ti fucilano, se lo fai a loro. E a debita una pallotta alla famiglia. Sì, esatto, preciso.